Diversificare l'offerta turistica è essenziale per la destagionalizzazione, lo sanno bene a Biesse, dove da alcuni anni stanno scommettendo in maniera forte sul turismo culturale. Due le importanti mostre che sono visitabili fino a fine settembre, Andy Warhol al Castello, Liviero Toscani al Museo Petrone, qual è il primo bilancio ad oggi? Di sicuro stiamo avendo un'affluenza molto importante, numericamente parliamo di circa 1.300 presenze, questo dall'inaugurazione avvenuta il 23 marzo fino alla fine di maggio. Qual è il target del visitatore? Fino a questo periodo di sicuro molti stranieri, comunque parliamo di un target che è solito, durante questo primo periodo all'apertura della stagione estiva, che si aggiria qui a Biesse. Ma notevolmente anche abbiamo la presenza di italiani.